Musica Amici dell'esperto risponde, buonasera, ben ritrovati, sempre qui su Sky Canale 511 una nuova puntata, un nuovo argomento che va a parlare dei contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio e più specificatamente delle domande che saranno possibili presentare dal 3 maggio in base all'ultimo decreto attuativo del decreto sostegni TER o meglio, contributo previsto al sostegno del decreto TER e che adesso ha un decreto attuativo siamo stati due mesi in stand by come solitamente succede sempre con queste tipologie di domande perché poi deve arrivare esattamente il decreto attuativo che dice come poter procedere ebbene è arrivato per le attività del commercio al dettaglio sono arrivate le istruzioni delle modalità di accesso alle somme e si parte con la domanda al MISE, che ricordiamo tutti quanti è il Ministero per lo Sviluppo Economico dal 3 maggio prossimo gli aspiranti beneficiari hanno quindi una scadenza ultima per il 24 maggio 2022 per appunto andare a chiedere questa tipologia di sostegno la nuova specifica formula dei contributi a fondo perduto per l'attività del commercio devono presentare i seguenti requisiti, li andiamo un po' a leggere in maniera dettagliata ovvero lo svolgimento in via prevedente di attività identificate da codice ATECO che poi andremo a vedere i ricavi del 2019 che non devono essere superiori ai 2 milioni la riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 la sede legale operativa ovviamente nel territorio dello Stato e soprattutto la sede legale operativa devono risultare regolarmente costituite iscritte e attive al registro delle imprese quindi non basta avere una società che però non risulta attiva non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere già in difficoltà al 31 dicembre del 2019 salvo eccezioni previste nella disciplina europea in forma di materia di Stato e non essere destinato a distanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9 del comma 2 del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 insomma fermi amministrativi, imposte non pagate che è un po' come quando si va a richiedere il DURC per le varie aziende per poter poi procedere ai lavori andiamo a vedere nello specifico quali sono poi i codici Ateco che possono beneficiare appunto di o meglio che potrebbero essere destinatari della domanda il 4719 che è il commercio al dettaglio in altri esercizi non specificati il 4730 commercio al dettaglio di carburante per autorizzazioni in esercizi specializzati il 4743 commercio al dettaglio di apparecchiature audio video in esercizi specializzati il 47.5 e tutti i gruppi commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati il 47.6 e tutti i gruppi di commercio al dettaglio articoli culturali ricreativi in esercizi specializzati 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento 47.72 al dettaglio di calzature 47.75 di cosmetici 47.76 di fiori, pianti, semi, fertilizzanti 47.77 dettaglio di orologi 47.78 al dettaglio di altri prodotti esclusi quelli di seconda mano di esercizi specializzati 47.79 commercio al dettaglio di articoli di seconda mano 47.82 commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili 47.89 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 47.99 commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati con il decreto direttoriale firmato lo scorso 24 marzo del 2022 il MISE ha stabilito i tempi di modalità abbiamo detto che si può partire dal 3 maggio e questo ristoro va ad implementare gli altri che sono negli aiuti per la pandemia per il Covid i rappresentanti legali delle attività che rientrano tra quelle che abbiamo appena indicato quindi dal sostegno TER soprattutto devono trasmettere l'istanza per questi contributi a partire dal 3 maggio alle ore 12 e accessibile tramite ovviamente la Carta Nazionale dei Servizi la CNS che viene rilasciata a tutti i legali rappresentanti nelle varie camere di commercio e via dicendo attenzione nel testo del provvedimento di legge e qua lo citiamo testualmente si legge questo ai fini del completamento della compilazione dell'istanza accesso all'agevolazione associati istanti ha richiesto il possesso di una posta elettronica certificata una PEC attiva che comunque dovrebbe esserci per le varie aziende la registrazione della PEC nel registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica quindi mi raccomando la PEC che tra l'altro deve essere obbligatoria per l'azienda deve essere presente come la presentiamo questa domanda? la presentiamo oltre diciamo con determinati requisiti rispetto del massimo di aiuti consentito dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo e considerando anche poi l'importo ovviamente del contributo richiesto la montare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2019-2021 la montare medio dei ricavi mensili relative ai periodi di imposta 2019-2021 l'importo del contributo richiesto e un IVAN relativo contocorrente dove poi verrà effettuato eventualmente il pagamento laddove necessari devono essere anche inviate le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia sono 200 milioni di euro le risorse che sono state messe a disposizione 60% fino a 400 mila euro nei ricavi del 2019 il 50% da 400 mila a un milione per i ricavi del 2019 il 40% da 1 a 2 milioni di euro ovviamente si può presentare la domanda ai vari portali con la carta nazionale dei servizi lo potete fare voi come azienda oppure chiaramente richiedere tramite un professionista incaricato questa tipologia di aiuto noi abbiamo terminato io vi do appuntamento sempre qui su Sky canale 511 come ogni venerdì e una nuova puntata dell'Aspetto e Risponde vi aspetta vi aspetta Grazie a tutti.